A Craveggia rieletto primo cittadino Paolo Giovanola, quali sono i primi passi dell'amministrazione? Naturalmente i nostri progetti continueranno con quello che è già iniziato, abbiamo il tornante in via Fratelli Piazza, messa in sicurezza, naturalmente abbiamo le autori messe comunali che da anni che aspettiamo questa realizzazione e speriamo di riuscire in questi cinque anni a completare. Altre attività, altri impegni, non so, sto pensando al turismo? Sì, allora abbiamo innanzitutto un interesse contoceno, un progetto alla via del legno che ripresenta ancora la storia della Girola, la famosa Girola del recupero del legname dei bagni, quindi un progetto comune che è sicuramente di interesse del turismo. Oltretutto abbiamo un collegamento, la colma alla piana, che serve innanzitutto per il servizio, un collegamento di servizio, ma farsi in modo che abbiano una possibilità di accedere alla piana senza avere ogni volta e qualvolta la necessità di avere la funivia e il trasporto. Un tema forse un po' spinoso, la casa di riposo. Beh, questo è un tema spinoso, naturalmente non è il Comune di Craveggia della proprietà, la proprietà è dell'Unione Montana-Vallevigiezzo, io ne sono il Presidente e in questo momento naturalmente l'obiettivo è della realizzazione la stessa. Si sono fermate in questi anni quest'opera, ma non per volontà politica o d'altro, ma proprio per un fatto di finanziamento. Oggi finalmente una società si è fatta avanti al finanziamento, prossimamente vedremo la realizzazione del cantiere e la partenza. In questi giorni è stata fatta la pulizia del cantiere per far capire che i lavori inizieranno presto.